Il Consiglio ha votato per non intraprendere nessuna azione di responsabilità chiudendo la vicenda. Con dieci voti contrari a fronte di cinque favorevoli e cinque astenuti, il Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano ha respinto la proposta di azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente Giacomo Marazzi per l'investimento effettuato in una banca di gibuti. Lo ha rivelato l'attuale Presidente Massimo Toscani nel corso dell'audizione in Commissione Comunale a Palazzo Mercanti. La Fondazione aveva affidato a un riconosciuto professionista esterno, l'avvocato bolognese Danilo Galletti, l'analisi delle operazioni passate. Alla fine ognuno ha espresso i propri primi, ma veramente con soddisfazione personale del Presidente per come si è svolta l'Assemblea in un clima molto sereno. Toscani non ha voluto anticipare in Commissione i contenuti del bilancio 2015, ma ha specificato che alcuni vecchi investimenti hanno avuto buona redditività. Siamo stati fortunati al bilancio 31 dicembre 2015 perché ci sono state alcune operazioni intraprese da consigliature precedenti, questo bisogna riconoscerlo, che hanno dato esito altamente positivo, per cui siamo riusciti a realizzare delle plusvalenze che consentono, perché i titoli sono rivalutati, di concludere il 2015, credo, in termini positivi. Tra i dati presentati ai consiglieri comunali spicca l'aumento dei valori contabili passati da 364,7 milioni del 2014 a 368 del 2015, che diventano però 381 milioni se si considerano i valori di mercato. Più che dimezzati i titoli di debito e le obbligazioni da 168,4 a 80,7 milioni, investimento importante invece in fondi comuni immobilizzati, da 0 a 65 milioni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 era di 350 milioni di euro, contro i quasi 382 milioni del 2004 e i 401 milioni del 2008. Capito le erogazioni. Negli ultimi dieci anni hanno superato i 78 milioni di euro. Furono 8 milioni nel solo 2004, poi costante calo fino al 2014, quando sono risaliti a 5,7 milioni.